Oggi andiamo a vedere la seconda parte della lezione intitolata Tutte le potenti parole umane Eravamo rimasti a dove il Maestro ci spiegava un concetto molto interessante quello dell'essere essenziale Il Signore non è inferiore nel suo essere essenziale ma nel suo ruolo di invitato Lui e il mitente sono uno Ma quando il mitente manda se stesso nel mondo per raccontare la storia della redenzione la posizione dell'invitato è inferiore a quella del mitente eppure essi sono uno Così il Signore Gesù Cristo non è inferiore al suo proprio essere essenziale ma al suo ufficio di invitato in questo mondo Per questo può fare l'affermazione Chi vede me vede colui che mi ha mandato Io e il Padre mio siamo una cosa sola Ma in questa affermazione vi mostra la differenza tra ruolo dell'invitato e quello del mitente Eppure il mitente e l'invitato sono uno Perché ascolta Israele il Signore nostro Dio Il Signore è uno solo Quindi nel ruolo dell'invitato è minore Sembra essere minore Ma non è veramente nel suo essere essenziale minore di Dio Padre Così sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo Ora lascio il mondo e vado al Padre Giovanni 16, 28 E ora i vostri cuori sono tristi perché vi ho detto questo Ma io vi dico che è opportuno ed è a vostro vantaggio che io me ne vada Perché se non me ne vado io lo Spirito Santo non può venire Ma se me ne vado io lo manderò a voi Giovanni 16, 6, 7 Ora diventa il mitente e manda E' ancora lui ma questa volta è chiamato con un nome diverso Se stesso E tu puoi conoscerlo come Giovanni Puoi conoscerlo come Maria Ma è sempre lo stesso mitente Ora lo conoscete come Neville Lo stesso essere che è stato invitato E mentre sono nel mondo come invitato Svolgo un ruolo inferiore al mitente Ma prima di essere invitato Sono stato incorporato al corpo del mitente E per sempre sono uno con lui Perché chi è unito al Signore Diventa un solo Spirito con lui Ma allo scioglimento di questa piccola veste Non sono allora restituito alla vita Sono uno con il Padre Uno con il mitente Allora io qui farei un piccolo appunto Quando ho scelto questi libri Queste opere inedite da condividere con voi Sono stata certa che siete pronti a sentire questa saggezza infinita Siete pronti ad accettare queste lezioni Come la nostra verità Come ciò che noi siamo In fin dei conti E più o meno ciò che ci sta dicendo nei suoi libri Dolores Tranne che qui lui usa un linguaggio diverso Praticamente sta mettendo in luce la verità di queste scritture Andiamo avanti Quello che non hanno ancora sperimentato ciò di cui sto parlando Saranno restituiti alla vita in un mondo come questo In un corpo nuovo Gloriosamente nuovo Inspiegabilmente nuovo In un mondo terrestre come questo Per continuare il loro cammino Fino a raggiungere il culmine Che è la resurrezione Perché voi siete sepolti Nella fenditura di una roccia Tu sei col Mosè Qualcosa che deve nascere Allora nella fenditura della roccia Ti metterò E ti coprirò la faccia con la mia mano Finché non sarò passato Allora toglierò la mia mano E vedrà il mio dorso Ma il mio volto non si vedrà Non si vedrà finché mio figlio Non lo rivellerà E mio figlio è Davide Nessuno conoscerà il volto Che porta veramente Finché non lo vedrà Riflesso nel figlio Davide Perché Davide è l'immagine del Dio invisibile Davide è il riflesso di Dio E porta l'esatta immagine del Dio invisibile Tu sei il Dio invisibile Ecco, questo è ciò che intendo Per la verità più profonda E tuttavia la sua applicazione è più pratica Non pensare neanche per un momento Anche se sei innocente Di ciò che è Dici che sia una parola vana Perché tu sei Dio E le parole di Dio non possono tornare a Lui vuote Devono compiere ciò che Lui si è proposto E quindi anche se sei ignorante della legge Tu sei la potenza operante Operando quella legge di cui Puoi essere totalmente inconsapevole Ma non ci sono scuse Raccoglierai comunque i risultati Come la mia amica ha raccolto i risultati Della perdita di peso Che non poteva permettersi E il mio amico Freedom Distratto come è Beh, a cosa serve un amico in questo mondo Se non può chiamarlo E chiedergli una mano per un aiuto Quando è necessario? Così il mio amico insegna questa legge E posso dirvi che la insegna Meravigliosamente E ha avuto un enorme successo Nell'aiutare innumerevoli persone Nell'uso di questa legge Ma poi è arrivata una prova per Lui Perché la sua unica passione è la musica Egli ama la musica Dategli la musica Egli avete dato l'intera giornata E Lui può sedersi nel suo piccolo posto a Cambria E suonare il piano tutto il giorno E dimenticare i pasti E così completamente trasportato dalla musica La ama così tanto Ma ora l'unica cosa per esprimersi non c'è più Ed ecco che proprio questa settimana Arriva la storia Nel Los Angeles Times Delle centinaia di milioni di dollari Che perdiamo ogni anno A causa dei furti tra i Moli del nostro paese Gli aeroporti del nostro paese E le aree interne dove La merce viene messa sui furgoni per la consegna E c'è un sindacato dei furti Ma si tratta di milioni non numerati Ebbene Quando leggete questo La persona di estrazione media A cui i soldi non mancano A cui i soldi non mancano dirà Va bene Sono assicurato Sono assicurato per duemila dollari Anche a comprarne un altro Frido mi è nato Molto povero E nella vita non ha mai fatto Del denaro un oggetto Non l'ha mai fatto Davvero Ama la bellezza Ama la musica Ama tutte le cose belle della vita E ne gode Ma non ha mai fatto del denaro Uno scopo della vita Davvero Non l'ha mai fatto Quindi non poteva uscire E sostituire lo strumento da 4.000 dollari Ma l'ho sentito chiaramente Con l'aiuto di questo canale E ho sentito questo bellissimo concerto E ho semplicemente usato la mia immaginazione per vederlo Potevo vederlo seduto lì Mentre suonava questo Bellissimo bellissimo pezzo E poi gli ho messo le mani sulle spalle E l'ho ringraziato Per la gioia Che avevo provato Ascoltandolo E poi ho sentito La solida bellezza Del suo pianoforte E mi ha chiamato Ero il mattino alle 11 Mi darà un resoconto dettagliato Di come è accaduto Il rapinatore è stato trovato E anche il pianoforte Allora io qui farei un piccolo appunto Prendete nota Di come ha portato Nella forma Quella circostanza che voleva portare Non solo il pianoforte a casa Ma l'immagine mentale Che ha fatto Quindi si è immaginato il suo amico Che suonava il piano Con l'aiuto di questo canale E poi è chiamato Chi è F.E.C. Ha sentito questo bellissimo concerto E con la sua mano immaginaria Con le sue mani immaginarie Le ha messe sulle spalle Ringraziandolo per questo concerto Quindi invece di vedere Il suo amico suonare Lo ha immaginato E sentendo questo concerto Ha manifestato Il ritorno del piano Del suo amico E il ritrovamento Del piano del suo amico Vado fino in fondo E per quanto riguarda Quell'uomo Anche lui è Dio Anche se Ha avuto la parte In questo piccolo incidente Del ladro Potrebbe lavorare Per un sindacato Io non mi preoccupo Tuttavia Dietro la maschera del ladro C'è mio fratello Quello che ha recitato La parte del ladro È il mio fratello Non c'è altro Che fratellanza In questo mondo Andate a dire Ai miei fratelli Che io salgo al padre Loro E al padre mio Al loro Dio E al mio Dio E al mio Dio Quindi siamo tutti fratelli Dietro queste maschere Siamo uno C'è solo Dio Così se oggi ci sono In questo mondo A causa dell'immaginazione Del suo Cattivo uso Queste cose orribili Possono dirvi che Dio Le trasforma tutte Come il grande artista Prenderà le discordanze E trasformerà queste discordanze Alla fine In belle armonie Lui prenderà Ogni discordia nel mondo Come il furto O l'omicidio Tutto nel mondo E lo risolverà Perché lui è il grande artista E in noi Tutto è perdonato Quello che ha recitato Quella parte stasera E quello che ha rubato Col camion Il contenuto Per mettere In imbarazzo Il mio amico Che non ha soldi Per sostituire Il suo grande amore Supponiamo Che quello In senso fisico Fosse mio fratello Sapete Cosa direi? Lasciatelo libero Non mi importerebbe Cosa ha fatto Amo così tanto I miei fratelli Che se venissero colti In qualsiasi azione Non mi interessa A quale Non mi interessa Se fosse un atto violento Chiederei al giudice Di lasciarlo libero Questo è quello che farei E lo farei davvero Perché è mio fratello Beh Dietro la maschera È mio fratello Ogni essere al mondo È mio fratello E tutti i miei fratelli Insieme Formano Dio Tutti formano Elohim Una parola Urale Una cosa sola Composta da altri Questo è Dio Quindi siamo qui Per imparare una lezione Una delle grandi lezioni È il pentimento Come cambiare il mio atteggiamento Verso uno stato Apparentemente fisso Inalterabile Ora imparo a cambiarlo Sentite qui cosa ci insegna Ignoratelo completamente E andate alla fine Dove è stato cambiato Quindi dobbiamo andare A cercare una situazione Dove Quello che vogliamo Portare nella forma Fosse già stato fatto Fosse avvenuto Così Ha preso il pianoforte Forse l'ha venduto Forse l'ha bruciato Ma io ho intenzione Di sentire Freedom Suonare lo strumento Più glorioso E quindi Goderne Così ignoro I fatti della vita Ignoro completamente I fatti E vado nella mia immaginazione Alla fine Come voglio che sia E lì la vedrò Vi dico che questa è Profondamente spirituale E così direttamente Pratico Quindi Viene nel mondo E racconta una storia Che il mondo Non capisce Perché ha raggiunto Il culmine Del piano Di salvezza di Dio E Avendo raggiunto Il culmine Vi dice che Deve andare Deve scomparire Come Insegnante Ma dove potrebbe andare Se non al padre E dove è il padre Se non in te Ora manderò lo spirito di verità Ma lui dice Io sono la verità Quindi Chi manderà Se non se stesso Ma quando verrà Ora porterà un nome diverso E lì è uno con il padre Che controlla il tutto Ma ora manderà se stesso Come un nome diverso Per continuare L'insegnamento E dire A tutto il vasto mondo Del piano di Dio Ricordate C'è solo Dio E' stato Dio stesso A scendere nel mondo Dell'umanità E a seppellirsi Nell'uomo E solo Dio Può essere Redendo E Dio Ha purificato Il processo Di redenzione Prima che il mondo Fosse Non è un pensiero Di emergenza Questo Era prima che il mondo Fosse Andrete diritti Fino alla fine A raggiungere Il punto culminante Il culmine E la resurrezione Da quella piccola Fessura Nella roccia E tu esci E poi torni indietro Così Gli evangelisti I quattro Iniziano la storia Del ministero di Gesù Con l'atto finale Che il battesimo Quando la colomba Scende su di lui In forma corporea Come simbolo Dello spirito santo E tutti iniziano così E poi tornano indietro Giovanni Essendo il più profondo Torna alla tomba E la racconta In modo simbolico E tutti i segni Che usa In quella meravigliosa Immagine della tomba Sono tutti segni Sono tutte figure Ma le cose Che significano Sono letterali Così racconta La storia Della nascita Usando il segno Di un tovagliolo Che simboleggia La placenta Racconta Ciò che avvene In quello stato Concreto Chiamato tomba Che quando si trova A quel piccolo Tovagliolo Allora avvene Una nascita Bene Questo era Un tipo diverso Di nascita Questa era La nascita Di Dio Dio è nato In questo stato Quindi inizia Con il primissimo atto Perché ci sono Quattro atti potenti E il primo atto È la resurrezione Pochi istanti dopo È seguito Dalla nascita Dall'alto Giovanni La conclude Con questa Ma La inizia Con la discesa Della colomba Quindi Vi sta mostrando Tutta la storia E sarà Al contrario Così La portiamo Al suo colmine E poi La storia divina È finita E il grande Spirito di Dio Chiamato Spirito Santo Ci porta indietro Non avanti Ma indietro Dove? All'indietro Fino alla sorgente Che è il vostro Sé Che è Dio Padre Ti porta indietro Fino in fondo E quando torni indietro Solo una cosa Al mondo Può convincerti Che sei Dio Padre Quando vedi La tua gloria Riflessa Nel volto Di Cristo E Cristo E Davide Questa è la storia Ora Soffermatevi Su di essa Stasera Voi che l'avete Registrata Riproducetela Ancora E ancora E ancora Non sto facendo Alcuna dichiarazione Profetica Riguardo A quando Partirò Personalmente Posso credere Che posso essere Troppo lontano Ma non ho Né giorno Né mese Né anno Non ce l'ho Perché nessuno sa Quando si toglierà Questa veste E avverrà solo Quando avrà finito Di fare Quello che deve fare Devo raccontarlo Ancora E ancora E ancora Perché nel mio caso È stato finito Ha raggiunto Il suo culmine Con la discesa Della colomba Su di me Ed è rimasto lì Ed è ancora lì Il simbolo Dello spirito santo Che si riveste Di me Per raccontarlo Perché lui Ha tutta la conoscenza Non la conoscenza Di come andare Sulla luna Ma la vera conoscenza Del mistero Di Dio Non si preoccupa Di tutte le cose Della terra Si preoccupa Solo dello scopo Di Dio E del piano Di Dio E così Egli mi Rivelerà Come ha fatto Tutte le cose Riguardanti La sua parola Nelle scritture E lo rivela Permettendomi Di sperimentarlo Perché Egli è venuto A me Apparentemente Come qualcuno Disconosciuto E poi In qualche strano E misterioso Modo Mi ha permesso Di sperimentare Chi è in prima persona Al presente In un'esperienza Singolare Così L'intera storia È il mio sé Che torna indietro Verso il tutto Perché all'inizio Era così Ma si arriva Al culmine Poi si ferma Il tempo Si ferma E poi ti muove All'indietro Verso la sorgente E lì sei Dio padre E sulla via Del ritorno Lo dite Mentre Portate ancora Un abito Che è il contatto Con gli abiti Di questo mondo Perché quando Vi togliete Questo abito Avete perso Il contatto Perché io Non sarò In contatto Perché il mio Abito domani È quello Perfetto Ovunque io sono Tutto è perfetto Non c'è motivo Di discutere Perché quel corpo Che tu Indusserai Nella resurrezione È un corpo perfetto E nulla È morto Nel tuo mondo Nulla può essere Imperfetto Nel tuo mondo Tutto è perfetto Ovunque voi siate Questo è il corpo Della resurrezione E di questo Si parla Nella scrittura Come terreno Dei cieli Quindi Il regno Dei cieli Non è un luogo Non è un regno È un corpo Quindi Ovunque voi siate Rivestiti Di quel corpo Risorto Tutto è perfetto Ma coloro Che muoiono Prima della resurrezione Qui E tutti saranno Alla fine Resuscitati Sono rivestiti Di un corpo Simile a quello Che ha scartato Solo che quel corpo È giovane Inspiegabilmente Nuovo In un mondo Tereste Proprio come questo E continuano Il loro viaggio Spero Che non lo dimentichiate Perché l'unico Grande peccato Contro di esso È dubitare Del potere Di questo ricordo Perché quando Entra nella vostra vita Egli è il ricordo Egli ricorda Tutto ciò Che Dio Ha compiuto Così poi Quando si ricorda Effettivamente Di tutto ciò Che Dio ha compiuto In te Ti riprende E tu sei Il Dio Che l'ha compiuto Il tutto Si ripete In te A causa Della sua presenza Questa è la storia Ora entriamo Nel silenzio Allora Prima di darvi Appuntamento a domani E salutarvi Mentre stavo Leggendo L'ultimo paragrafo Ho avuto Un'immagine Nitida Della legge Dell'Uno Se non avessi Studiato Questa legge Dell'Uno Non avrei capito Nulla Di ciò Che ho letto Stasera Ma dopo aver capito E aver letto E aver Studiato Un corso In miracoli E la legge Dell'Uno Tutto ciò Che sta dicendo È la stessa Identica cosa Solo Con un altro Linguaggio Usando altre parole Naturalmente Decifrando Le scritture Io mi fermo qui Vi aspetto domani Grazie Della vostra compagnia C'è bisogno Della vostra luce Grazie